Ciao a tutti, oggi prepariamo una birra di rizzo molto spettacolare seguendo una ricetta antica direttamente dalla Cina quindi vediamo i ingredienti e come possiamo farlo usiamo 1 kg di malta di rizzo 1 kg di rizzo bianco 6 g di pasta più frutto 8 g di batteria 4 litri di u Co prima di tutto mettiamo 4 litri di ucuna in strada con il rizzo e cuociamo il riso per 25-30 minuti ora che il nostro riso è cuocato dovremo fare una linea di riciclato e riciclato, 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 riciclato e riciclato e così via, fino a finire il nostro riso se usate un altro pote sarà una buona idea l'importante cosa è che il contenitore può resistere alla temperatura alta il nostro riso Ora possiamo chiudere il nostro poto con il lido e lasciare il nostro poto 12 ore fermato. Se lo facciamo in avanti sarà più facile, quindi domani andremo a preparare la nostra pioggia. Dopo 12 ore possiamo scegliere tutto il riso di acqua dalla mixtura usando una piazza. I will go ahead taking all the juice and after we will go to up our beer Now I wash the pot after we put our juice in the pot and we will boil it with the hop 60 minutes After one hour we remove from the fire and we put in a big container with the water. Our goal is to down the temperature after when the temperature will reach 25-30 degree I will put everything directly in the fermentator removing the hop. The water is full of water and the water is very low. The water is still low, so it's really good to eat. The water is very low. The water is very low. The water is full of water and the water is very low. Grazie a tutti Grazie a tutti So now I will check the temperature If we have reached 25 degree 20-25 degree I will add the Easter Add the Easter Now we should wait See you later to check if the fermentation start Sorry but my fermentator has some problem So now I change the container This is a container for the milk I put my instrument upon This new fermentator And it's working So now we wait The end of the fermentation And after we will go to put our beer in the bottle After two weeks the fermentation is complete So now we can put the beer in the bottle But because we want the beer really sparkly We can add some sugars in the bottle directly Usually the proportion is 8 or 10 gram Every liter of beer In my case the bottle is 250 ml So I will add a pinch of sugar So now I will remove the bubble From the fermentator And very slowly I will put the beer In the bottle Because we have a lot of yeast And other material On the basement And it's I'll come in So So Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. So guys, see you next time. Bye bye.